Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Sims 4 Cominciamo di notte, è notte e le bambine stanno giocando tutte e tre sulla nave Stanno tutti bene, il campus estivo sta procedendo bene Intanto io ho aperto anche il pannello dei valori caratteriali per farvi vedere un po' a che livello siamo Per quanto riguarda la nostra Erika infatti abbiamo molta educazione, responsabilità e controllo emotivo La risoluzione dei conflitti e l'empatia però purtroppo schiarseggia Mentre gli altri diciamo che se la stanno cavando bene Lei addirittura ha la responsabilità davvero in alto, davvero intanto in alto Mentre gli altri hanno dei valori abbastanza buoni e positivi Mentre altri sono negativi, insomma sono un bel mix Fa di fatto però che questo è l'ultimo episodio al campus estivo Come vi avevo detto volevo fare due o tre episodi E quindi dal prossimo torniamo alla vita di tutti i giorni nella nostra famiglia principale bianchi E cominciamo a vivere con loro Ma per questo abbiamo tantissime cose da fare Infatti vorrei cominciare dicendo ai bambini di fare dei progetti E quindi ora sono tutti nominativi Quindi devo cercare il sim di riferimento per tutti i progetti Quindi ad esempio questo lo dovrà fare la nostra Sara E quindi diciamo a Sara di lavorare negligentemente Mentre tutti gli altri ci mettiamo gli altri bambini Così vediamo anche intanto la palla che sorpassa i muri e palleggia dentro la casa Ma non importa E intanto cerchiamo tutti i sim del caso Eccoli qua che arrivano e ricevono sempre delle pallonate in faccia Perché praticamente il pallone supera il muro Non importa non importa Volevo anche farvi vedere un po' di secondi Mentre realizzano i loro progetti Perché l'abbiamo visto un po' di sfuggita nello scorso episodio E voglio anche che tutti abbiano dei ricordi del loro campus estivo In questo episodio infatti con Ventolino faremo tantissime foto Alla nostra Erika che poi porterà a casa e riempiremo la bacheca della sua camera Quindi in realtà ci prepariamo davvero alla fine di questa esperienza Che spero vi sia piaciuta A me è piaciuto davvero tanto giocare con i bambini E soprattutto vedere un po' la genitorialità Se anche pur con Ventolino Caro nostro Ventolino sempre con noi E intanto è bello acceso perché qua si schiatta di caldo Ma sono dettagli e noi continuiamo a guardare quello che fanno i bambini E intanto però ho detto a Ventolino di smetterla di giocare col canestro Perché altrimenti davvero potrebbe ammazzare uno di loro E venire qua e fare delle foto a Erika Perché appunto come vi ho detto Voglio cercare di fare un piccolo collage dell'esperienza per lei Quindi eccolo qua il nostro venti Grazie mille Macchina fotografica in mano E scatto una bella foto della nostra Erika Che intenta a fare il suo progetto scolastico Beh in realtà possiamo fare anche una foto degli altri bambini Che lo fanno Quindi cominciamo da loro Ora però il turno della nostra Erika E per lei direi che la possiamo fare media Quindi in realtà scattiamo un po' di foto medie Eccola qua E intanto lui li guarda Li osserva E loro fanno tutti i progetti scolastici E intanto io non ricordo Però se avevo dato la foto Sì eccola qua Per fortuna l'abbiamo Perfetta anche i compiti Benissimo Quindi queste foto le diamo poi anche a lei Quindi aspettate che seleziono il mio ventolino E vediamo un po' di trovare la foto media Che in realtà dovrebbe trovarsi da queste parti Eccola qua 6, 5, 13 Perfetto Questa la diamo a lei In tutto ciò vi ricordo anche che loro stanno aumentando la responsabilità Quindi in realtà è molto molto buona come cosa E qualcuno ha già finito il nostro Vincenzo Dov'è? Eccolo qua Forse ho perso la notifica No in realtà no La responsabilità di Vincenzo è sufficiente per acquisire il tratto responsabile Scherzavo È una nuova notifica Quindi nel caso ecco qua Dovrebbe anche poter prendere il tratto responsabile Perché come vedete la sua responsabilità è bella bella alta Davvero alta Vediamo un po' però la nostra Erika Che in realtà è la protagonista come messa In realtà sta crescendo anche lei di responsabilità Ma dobbiamo un po' impegnarci per quanto riguarda gli altri tratti Ma vi ricordo anche che tutto questo ce lo porteremo anche da adolescenti E quindi avremo una nuova fase Una nuova fase con più responsabilità da parte sua E quindi faremo azioni e cose diverse Anche perché quando torniamo a casa voglio anche acquistare il pannello del coprifuoco Che è una cosa nuova che voglio provare insieme a voi Ma quello aspetta i genitori hanno una ventolino Quindi in realtà aspettiamo un attimo Uh intanto il primo che ha finito è stato Manuel Che ha finito il suo progetto E possiamo però accenderlo o fare qualcosa A quanto pare no Serviamo il progetto però Voglio capire Sistema solare Beh carino è carino E vi ricordo anche che anche quelli ce li portiamo a casa e li mettiamo in camera Quindi in realtà questo campus estivo sarà una sorta di grande grande Accumulo di souvenir per tutti noi E intanto stanno già andando a scuola Oh bene E in teoria dovrebbe anche andare in ritardo la nostra Erika Cominciamo benissimo E intanto Sara come va? Come va? Come va? Bene ha quasi finito Anche lui ha quasi finito Anche perché ovviamente il preside chiama e non possiamo farci nulla E intanto anche lui la responsabilità è aumentata E in realtà questo è dai responsabili Il fatto che non stanno andando a scuola in orario Ma che se ne importa Intanto Perfetto Hanno finito il progetto Molto bene Anche lei guardate un po' la responsabilità della nostra Erika Perfetto Ha quasi finito il progetto Forza Erika Sei l'ultima Sei davvero in ritardo Ma ovviamente è la mia sim Quindi ora scappa a scuola Grazie Erika So che sei stanca Scappa pure a scuola Oh questo non l'avevo ancora visto Si può attivare Ed è robotica Oh bene Questo lo mettiamo a casa Perfetto Sono tornati tutti da scuola E intanto i voti sono aumentati Molto molto bene In realtà la nostra Erika Credo sia da 7 Non è una studentessa modello In realtà è da 8 E anzi Se ci impegniamo probabilmente Raggiungeremo il 10 Molto molto facilmente Ora I loro progetti però li voglio Quindi in realtà Vieni qua e prenditelo E mettitelo nell'inventario Il tuo progetto Cara Erika Perché ci serve Non credo siano tornati a casa Con altri progetti Infatti è così Lui intanto anche Di popcorna variati Nell'inventario Ma chi se ne importa A questo punto ragazzi Cominciamo come vi dicevo A fare delle fotografie Ricordo Per la nostra Erika Quindi venite qua Tutte e tre le bambine Grazie Anche perché vi voglio far vedere Che il loro rapporto È molto molto buono Addirittura con Marta Sono davvero molto amiche Sara e Marta Ma anche Erika Ha fatto davvero tante amicizie E pensavo anche Prima di abbandonare il campus Di creare un club Con tutti i loro 6 Se riusciamo E così almeno Potranno continuare A frequentarsi Anche fuori dal campus Guardate un po' Quanto è triste La nostra Marta Ma sono dettagli Vieni qua ventolino Grazie Devi fare una bella foto Quindi eccoci Qua scatto una foto Forza delle tre bambine Vicino al castello Questa ce la portiamo a casa Eccole qua Zoomiamo un po' E in realtà Sara è abbastanza Nascosta Quindi aspettate un attimo Facciamo così Facciamo così Ecco Veniamo qua E facciamo un bel Altrescente amichevole Possiamo abbracciarla Sì Benissimo Benissimo Allora aspettate Che mi metto qua Ventolino Qua vicino Eccoci qua Dovrebbe uscire Una bella foto Oh perfetto Nel momento giusto Momento giusto Ma posto sbagliato Mi dicono Perfetto Stavolta ho beccato Il momento giusto Oh Un abbraccio Un abbraccio La facciamo media Stavolta E facciamo tantissime fotografie Devo anche ricordarmi Però di darle a Eric Altrimenti non ha senso Tutto ciò che sto facendo Quindi in realtà Dobbiamo anche impegnarci In quello Ecco direi che possono Venire tutti qua I bambini E facciamo anche una bella foto Di gruppo Di tutto il gruppo Assolutamente Quindi venite qua tutti Grazie bambini Ci sono tutti Sono 4, 5 E 6 Perfetto Ventolino Fai una bella foto Di tutti e 6 Grazie La facciamo bella zoomata Perché altrimenti Non stanno tutti Nell'inquadratura Eccoli qua E facciamo gigante Stavolta la foto Assolutamente Bella gigante Ok dai Direi che abbiamo Tantissime fotografie Ora Questa è da 11 E la diamo alla nostra Erika Poi dobbiamo dare Anche un altro po' Di fotografie Quella di gruppo Invece Credo sia questa Vediamo un po' No in realtà No è questa Perfetto La diamo sempre a Erika Che a questo punto Ha tantissime fotografie E intanto Luca Vorrebbe venire da te Per passare un po' di tempo insieme Ma al momento No papà Anche perché Li vedremo presto Li vedremo presto Abbiamo fatto però Tante tante foto Direi che con le challenge Ci siamo ragazzi Li abbiamo fatte abbastanza Quindi in realtà Non voglio fare altre challenge Ma Come vi dicevo Siamo alla fine del campus estivo Quindi con la nostra Erika Vorrei fare intanto Un bel club Quindi Crea un club E cominciamo E mettiamo Gli amici del campus Perché no E possiamo metterci 6 sim Quindi ora Scegliamo un po' di cose Da fare E poi aggiungiamo Tutti gli altri Ecco Come vedete Ho scelto tutte attività Che si possono fare In questo lotto Che sarà il ritrovo Del club Così almeno avremo La possibilità Di tornare in questo lotto E vederlo di tanto E vederlo di tanto in tanto Perché non lo voglio Abbandonare Quindi abbiamo Gioca a non svegliare Il lama che dorme Usa la palla canestro Lo scivolo da giardino I compiti E il tavolo scientifico Direi che va molto molto bene E qua invece Invitiamo un po' tutti Quindi diciamo All'oro 5 Di venire a far parte Del nostro club Piuttosto Non trovo Sara Eccola qua Perfetto Ci siamo ragazzi Abbiamo tutto Quindi diamo il via E in realtà qua Dobbiamo anche scegliere Un bel Una bella icona Ma si dai E l'arcobaleno Direi che ci può andar bene Eccolo qua Il nostro club Bello pronto Quindi tutti sono amici Del club Possiamo anche fare Il radunino qua Quindi secondo me È perfetto A questo punto però ragazzi Vorrei fare qualcosa di importante Con il nostro ventolino Quindi in realtà Facciamo un bel evento Vediamo un po' dove Eccolo qua Pianifico un evento sociale Dovremmo poterlo fare Con i bambini Lo spero davvero Ecco qua Che intanto Arriva la notifica Eccoci qua Vorrei fare infatti Una festa In costume Se possibile Perché Vorrei vedere un po' Uh festa a spettrare Potrebbe anche essere carina Ma no Volevo fare una festa In costume in realtà Possibile che non si possa fare Beh possiamo fare quella In costume incognito Perché no Anche perché saranno Costumi random Quindi ci divertiremo A capire un po' Come si vestiranno i bambini random Padrone di casa Assolutamente lui Mentre gli ospiti Direi che possiamo invitare Tutti loro Così almeno Stiamo un po' tutti qua Ci manca però La nostra Erika Per assurdo Che però si trova qua Quindi non importa Un fornitore di catering Probabilmente lo chiamerei Perché no E anche un mixologo Assolutamente sì Anche perché Dovrei aver messo Credo il bar O comunque magari lo chiamiamo O magari no Perché si tratta di bambini Non vorrei farli imbriacare Sarebbe un po' Sconveniente come cosa E ovviamente la festa La festa la facciamo La residenza vento Quindi ci siamo E vediamoli un po' Come si sono vestiti tutti Tutti da hot dog Ragazzi Tutti da hot dog E lui da morte Perfetto Vincenzo sta attraversando Una fase Una vera di cattiveria Probabilmente il costume Non gli è piaciuto troppo Però almeno abbiamo La nostra festa E ora vediamo un po' Cosa possiamo fare Dobbiamo fare in modo Che si imballino Tutti nello stesso momento E per farlo ragazzi Qua ho messo la console da DJ Infatti la festa si Terrà quassù Quindi dico al nostro ventolino Di servire tutto E qua di metterci Anche un bel po' Di cioccolato Che scende E poi chiamiamo anche Un bel Assumi personale DJ professionista Per 250 O magari anzi no Quello era da 100 Direi all'ultimo grido Perfetto Così almeno diciamo ai bambini Di venire qua tutti La cosa un po' strana È che la nostra Erika Non è vestita Però alla fine Va bene Va bene Intanto tutto il cibo È stato messo Il DJ sta arrivando Quindi bambini Facciamo qualcosa del genere Pausa Facciamo un bel gruppo Con tutti E andiamo a ballare Ecco qua la DJ che arriva A dire che possiamo Venire qua tutti insieme E cominciare a ballare Anche perché è un obiettivo Della festa Dovremmo anche fare Un tè di alette Di pollo fritte Piuttosto che Un pasticcio di taco Queste cose sono un po' Impossibili da fare Ma noi ci proviamo Con il nostro ventolino Vediamo un po' Se riusciamo a fare tutto Ah Intanto qua c'è Il fornitore di catering Cucina Dobbiamo fare Un bel pasticcio di taco Lui può farlo Ha l'abilità per farlo Probabilmente no Può fare solo il pan de muerto In realtà Non è proprio il massimo Sperando che lo faccia La nostra Come dire La nostra fornitrice di catering Al momento Noi non ce ne importa Tutti stanno arrivando Lassù E intanto si L'ha fatto lei Perfetto Cibo di ottima qualità Forza bambini Venite qua E anche sera ragazzi E anche sera E che non mi dispiace affatto Eccoli qua E stavolta Balla insieme Tutti insieme Eccoli qua I bambini che ballano insieme Possiamo fare una coreografia Con i bambini Probabilmente sì Probabilmente no Vediamo un po' Ma possiamo fare solo balla Non possiamo ballare insieme Inteso come con gli adulti Per fare le coreografie Ma non ce ne importa Perché guardate un po' Io faccio un bello screen Di questo momento Cheese Tutti i bambini che ballano Tutti vestiti da hot dog Tranne la nostra elica Ma chi se ne importa Intanto tolgo anche gli screen Molto bene E si stanno divertendo Si stanno divertendo davvero Mangia la torta Ma la torta noi non l'abbiamo A meno che non l'abbia fatta La fornitrice di catering Cosa che ignoro Quindi vediamo un po' in cucina Se tutto quello che sta facendo È buono È comestibile Soprattutto E da qualche parte Ecco Questo l'ha fatto Vediamo un po' Che sta facendo Però la fornitrice Eccola qua Che viene a ballare Con i bambini Perfetto Non mi aspetto l'oro In questa festa Perché comunque Si devono divertire E chi se ne importa Di tutto il resto Anzi Mi approfitto per dire a tutti Di prendere una porzione insieme E vederli tutti mangiare In realtà Dopo che si balla Si viene fame Quindi in realtà è meglio Che vadano a mangiare Intanto alcuni attraversano Delle fasi di cattiveria acuta Ma ormai ci siamo abituati E come vedete E come vedete Qua abbiamo la nostra fontanella Con tutta l'acqua E tutti i petali Che ho messo qua sotto Dai Direi che va bene Va bene Tanto lì è tutta tranquilla Molto bene Il livello di genitorialità Le stelle Perfetto Direi che possiamo smettere Di ballare un attimo E venite qua A mangiare tutti ragazzi Ecco qua Che ovviamente Erika si sede a tavola Come vedete Ho messo anche tutte le serie Tra virgolette Da bambini Tutte colorate E assistiamo anche A questa scena Di tutti i bambini Che mangiano a tavola Che secondo me È una cosa carina Sono momenti Del campus Di vita normale Che voglio racchiudere In questa esperienza Ovviamente Mi piacerebbe anche Che lui fosse felice Che lei si sedesse a tavola Ma non credo Di poter pretendere troppo Dai mi sim Però probabilmente Posso pretendere Che il nostro venturino Venga qua E faccia delle foto Perché anche in questo momento Si può immortalare Con un bel scatto Una foto E guardatelo un po' Vesito da morte È ancora più inquietante Del solito Il nostro venturino Eccolo qua Il momento Direi che possiamo fare Una foto media Stavolta E facciamo una bella fotografia Poi magari a casa Cambiamo anche il filtro Se vediamo che è troppo oscura Ma va bene Intanto in tutto ciò Lui sta facendo più livelli Della nostra chiara Mentre il fotografo Un po' tutti E soprattutto Ora mi cerco subito La nostra foto Così almeno la diamo Alla nostra Erika Quindi vediamo un po' 10 Dovrebbe essere questa Quindi la diamo pure Alla nostra Erika Grazie E loro intanto mangiano Ovviamente abbiamo fallito Miseramente la festa Non abbiamo neanche preso il bronzo Ma chi se ne importa Vorrei fare però Un'altra cosa Con Ventolino Qua ci dovrebbero essere Dei compiti Che non so a chi appartengano Quindi aspettate Che cerco qualcuno Fa i compiti Sono proprio suoi Quindi metti nell'inventario Caro Manuel Grazie Perché ora Ventolino Verrà qua Vestito da morte Il che è tutto dire E dovrà fare un regalo Ai nostri bambini Perché voglio che vadano a casa Con un regalo tutti Quindi Ventolino Vieni qua Grazie Lui intanto è sempre arrabbiato Con la vita Molto bene Entriamo in modalità Compri e costruisci Perché voglio regalare a tutti Il diario segreto Ragazzi Un diario privato Che si terranno Dove scriveranno Queste esperienze bambini Anche Erika lo avrà E lo porterà a casa sua E quindi lo potrà aggiornare Mentre cresce Per la nostra Erika Infatti pensavo di prendere Questo Con la corona E metterlo qua Mentre per gli altri Scegliamo un po' di fantasia Ad esempio Questo lo possiamo dare Magari a Manuel O piuttosto a un maschietto Visto che hanno Dei colori un pochino Più maschili Quindi li mettiamo Ce n'è uno azzurro Verde Beh anche questo Potrebbe anche andare bene Per i maschietti Mentre per gli altri Due bambine Che sono qua Scegliamo altri colori Tipo il giallo E anche il rosa No l'abbiamo già scelto Magari possiamo prendere questo Perché no Quindi ora possiamo Chiamare i nostri bambini E direi che intanto Questo possiamo Metterlo nell'inventario Di tutti Quindi tutti i bambini Verranno qua E metteranno i loro Rispettivi diari Nell'inventario Almeno saranno tutti Più tranquilli Questo lo diamo Alla nostra Marta Metti nell'inventario Perfetto La nostra Sara Invece è qua Quindi la richiamiamo All'ordine Diciamo anche lei Di venire a prendersi Il suo diario E le diamo Proprio questo Quindi metti nell'inventario Mentre questo Può essere di Vincenzo Metti nell'inventario E l'ultimo E l'ultimo è del nostro Alberto Che dovrebbe essere Questo sull'azzurro Quindi venite qua Tutti i bambini E mettete il diario Nei vostri inventari Grazie Eccoli qua che arrivano Perfetto Perfetto Tutti hanno ricevuto Il regalo del campus estivo Da parte del direttore Del campus estivo Ovvero il nostro ventorino Lui prende l'ultimo E a questo punto ragazzi Direi alla nostra Erika Di scrivere qualcosa Sul suo diario Quindi scriviamo nel diario Un po' la nostra esperienza Ovviamente privato Controllo emotivo Esatto Quando si scrive nel diario Se aumenti il controllo emotivo Che come vedete In realtà era molto molto buono Ma con questo Abbiamo anche la scusa Per aumentarlo Davvero molto molto bene E come vedete Ria come tratto Aggiuntivo Bebè felice Perché abbiamo anche In possesso Tutte le abilità dei bebè Quindi in realtà Con lei abbiamo fatto Un ottimo lavoro Anche nella sua Prima fase d'età Va bene Ria ha scritto davvero Tanto sul diario A questo punto ragazzi Credo sia arrivato Il momento di concludere Qua il nostro campus estivo Abbiamo fatto challenge Abbiamo visto film Abbiamo mangiato Popcorn Abbiamo fatto davvero Tantissime cose Progetti scolastici Abbiamo davvero fatto Tante sfide I compiti Eccetera Abbiamo giocato Riso Scherzato Passato delle notti Sotto le stelle E questa esperienza A me è piaciuta davvero tanto Però è arrivato il momento Di concluderla E come si conclude Un'esperienza di questo tipo Con una bambina Semplicemente Insieme al direttore Direi che possiamo venire qua E chiamare i nostri genitori Che vengono a prendersi La loro bambina Credo sia più che naturale Quindi chiamiamo qua Nell'otto attuale Alle 4.51 di mattina Magari no Direi che possiamo aspettare Mari il giorno Sarebbe carina come cosa E poi chiamiamo i nostri genitori Per farci venire a prendere E torniamo a casa Con la nostra Erika Che è leader però Del club Che contiene i suoi amici Del campus estivo E quindi in realtà Questo è stato l'incipit Per avere tante amicizie Per sviluppare molto molto Le abilità E sono contento di come è andata E per puro caso Ragazzi è sabato Il che è perfetto Perché lei avrà il tempo Di tornare a casa Riposarsi E poi lunedì Tornare a scuola Ora però Chiamerei nel lotto attuale I miei genitori Grazie Potete venire Potete raggiungermi Salve Sono la vostra figlia Vi ho abbandonato per un po' Chissà cosa avrete combinato A casa in questo periodo Probabilmente avrete venduto Le piante Avrete fatto tantissimi soldi In realtà no Perché non ho venduto nulla Ma sono dettagli Però ovviamente Avete me Sono nata da voi Quindi cari Chiara E Luca Venite pure a prendermi Eccoli qua che arrivano subito Dovrebbero arrivare A momenti ragazzi Quindi aspettate che sto sulla strada Perché probabilmente Compariranno da un momento all'altro Eccolo qua Beh che dire Probabilmente la distanza Di sua figlia Ha fatto un pochino male Alla nostra Chiara Guardatela un po' Credo si sia ingrassata tanto E non riesce a camminare E si ragazzi Perché Erano fidanzatini Sono tornati a casa La loro bambina Era nel campo sestivo E loro due Beh Hanno deciso Di fare delle robe Mentre erano a casa E quindi Nel prossimo episodio Cominciamo alla grande Anche perché Dobbiamo trovare una cura Per questa decerebrata Che va a bussare alla porta Mentre sua figlia Si trova all'esterno E la può abbracciare Perché è qua Due metri da lei Invece preferisce andare là E fare Delle cavolate Comunque Una parola di priorità Chiara Lo farei Lo farei in questo momento Ma non importa Possiamo anche fare Un bel amichevole Abbraccia Nostra madre Che è venuta a prenderci E cara Erika C'è una sorpresa Per te piccolina Quando tornerai a casa Probabilmente Nascerà tuo fratello Barra tua sorella E si che Quando tu eri al campus estivo Io e papà Ci siamo dati da fare Beh In un certo senso I semi centro Ma in realtà È tutt'altra roba Quindi non voglio scendere Nel volgare E comunque si Qua dentro c'è tuo fratello Tua sorella O quel che sarà Spero sia uno Qualsiasi cosa sia Spero sia uno E nel prossimo episodio Ricominciamo con la vita normale A casa della famiglia Bianchi Con un nuovo arrivo Con tanti lavori E tante esperienze E bagaglio E motivo che si è portata avanti La nostra Erika Che appunto sta crescendo E avrà tantissimi ricordi Del suo campus estivo Visto che in saccoccia Nel suo inventario Ha davvero tantissime belle robe Ha tantissime foto Ha tantissimi progetti Ha il suo diario segreto E secondo me Questa esperienza è stata carina E sono contento Che vi sia piaciuta Direi però che per questo episodio È tutto Io spero Che vi sia piaciuto E se così vi invito a mettere un mi piace Iscrivervi al canale E farmi sapere sotto nei commenti Che ne pensate Sotto di me trovate il pulsante Per iscrivervi ad altri due video Io come sempre vi darò l'appuntamento Alla prossima E vi dico Ciao a tutti